Bentornati, ciao a tutti, spero che abbiate passato delle buone feste, io non mi sono fatto vedere in questi giorni perché non c'era praticamente niente di cui discutere, ovviamente siamo sotto Natale, anche i calciatori della Juventus si sono riposati, anche se non tutti, perché comunque ieri Chiesa si era messo le scarpette, ha taggato la Juventus sul suo profilo Instagram, è andato a farsi una corsa alla continassa, un po' di allenamento extra, perché comunque tra poco si torna in campo. Oggi è il 27 di dicembre, mancano quattro giorni al nuovo inizio, quindi a una nuova alba all'inizio dell'anno 2023, dove aprirà anche il calciomercato, inizieremo a parlare già un pochino di calciomercato perché qualcosa si sta muovendo, lato campo, lato sportivo invece in Premier hanno già ricominciato e noi invece siamo qui che stiamo aspettando gli ultimi giocatori di rientro dai mondiali, oggi per dire tornano anche ad allenarsi tutti i brasiliani, Bremer aveva già ricominciato un pochettino nei giorni scorsi, oggi tornano anche Alessandro e Danilo, quindi gruppo squadra sta iniziando a compattarsi, è vero ci sono dei problemini a livello fisico, infatti oggi Quadrado aveva una visita di controllo al ginocchio presso il J Medical e vediamo, abbiamo già l'obiettivo cremonese del 4 di gennaio ben chiaro in fronte, ma quello ce l'abbiamo in fronte dal fischio finale della partita con l'Alazio e in mezzo ci sarà un'ultima amichevole con lo Standard Liegi in programma il 30 di dicembre, quindi il penultimo giorno dell'anno. Vedremo un po' se avremo a disposizione qualche giocatore in più, io un po' di ansia per i vari Chiesa, Vlaovic, che erano giocatori che hanno avuto dei problemini, hanno avuto le ricadute, hanno avuto gli affaticamenti, quindi quelli sono un po' il mio focus principale. E ovviamente è Pogba che dobbiamo iniziare a capire se e quando tornerà effettivamente a correre, a giocare, a essere un giocatore importante in chiave Juventus. Per oggi è una giornata importante in chiave Juventus per un motivo, c'è stata l'assemblea degli azionisti, è stata l'ultima assemblea degli azionisti tenuta da Andrea Agnelli, quindi voglio leggere insieme a voi quelle che sono state le parole riportate dal Twitter ufficiale della Juventus, potete vedere che c'è il verificato in giallo perché adesso Twitter ha differenziato i colori dei verificati e dice In corso all'Allianz Stadium l'assemblea degli azionisti. Le parole di Andrea Agnelli Lasciare la presidenza non è stata una decisione facile per me, che oltre ad amare la Juve mi sono impegnato al massimo per ottenere risultati straordinari in questi anni, in campo e fuori. Ho assunto questa decisione in piena serenità, resto fermamente convinto del buon operato di tutti questi anni, opinione confermata anche nelle ultime settimane dalle analisi di numerosi esperti. Juventus dimostrerà in ogni sede le sue buone e legittime ragioni. Ho ritenuto opportuno fare un passo indietro per evitare che si potesse anche solo pensare che le scelte e le decisioni che verranno prese da qui in avanti fossero condizionate al mio coinvolgimento personale. È stato un onore essere presidente della Juventus che viene prima di tutto e di tutti, fino alla fine. Non lo so, sono parole un po' particolari. Me le aspettavo diverse. Cioè in realtà non so, non sapevo nemmeno cosa attendermi, devo dire la verità. Mi fanno uno strano effetto lette in questo modo, perché mi danno quella sensazione di cordone che non viene tagliato. E questo non mi sembra che si sia arrivati a un punto. Non mi sembra arrivata effettivamente la parola fine di fino alla fine. C'è qualcosa che secondo me che tocca. Non sto qui dicendo, non sono qui a dirvi che Agnelli tornerà presidente della Juve da qui a breve. Non è questo, però non lo so. Sono parole che mi lasciano questa sensazione un po' particolare. E allo stesso tempo ieri Juventus ha comunicato il nuovo consiglio di amministrazione. Questi sono i nomi dei candidati da parte di Exor, che a sinistra di maggioranza oltre il 63%. Fiorana Vittoria N, che non si può dire non per fare facile ironia, ma perché seriamente se no rischio qualcosa probabilmente a livello di algoritmo di YouTube. Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone e Laura Cappiello. Sono nomi per lo più al tifoso medio di calcio, vuoti per il tifoso medio di calcio. Io sono un tifoso medio di calcio e non li conoscevo. Scanavino e Ferrero ho iniziato a conoscerli nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, nel mese scorso, proprio perché era accaduto un po' questa roba al lato Juve e si era parlato di questi uomini, di questi dirigenti, di questi appartenenti al neoconsiglio di amministrazione della Juventus, che entrerà in vigore il 18 di gennaio. Quindi torneremo prima in campo, piuttosto che a parlare di CDA, probabilmente è meno male, perché sinceramente inizio anche a essere abbastanza stanco. Quello che rimane da commentare è che sicuramente stiamo entrando all'interno di una nuova era della Juventus, che non significa che sarà una nuova era definitiva. È per quello che prima vi dicevo di questo discorso qua, perché comunque il ragionamento che fanno è il seguente. Per il momento ti metto un CDA tecnico, non c'è nessuna figura sportiva. Si era parlato di Del Piero, si era parlato di qualche giocatore da inserire all'interno del CDA per quella parte inerente al campo vero e proprio, non alla lotta. Questo è veramente un insieme di esperti che si prepara a una battaglia. Anche lo stesso Agnelli l'ha detto, ci saranno delle decisioni a prendere. Non volevo che venisse considerata una mia decisione, piuttosto che una della Juve. La Juve rimane davanti a ogni cosa. Quindi mi dà proprio la sensazione di adesso ci sono questi qui, magari vediamo fin dove arriviamo e poi ci ragioniamo. Addirittura si parla di un Cherubini che potrebbe lasciare a giugno. Secondo Nicolò Baliccia anche Cherubini è nella lista di quelli che potrebbe partire. Ma oggi Cherubini e Allegri hanno il potere massimo a livello sportivo dentro la Juventus da qui a giugno. E da qui a giugno sono loro due. Poi si vedrà. Lo stesso arriva bene, potrebbe uscire, poi si vedrà. Dato che ha delle deleghe e comunque arriva bene in questo momento. Quindi vediamo, è una continua evoluzione. Non mi aspetto Ferrero, presidente della Juve, ancora per tanto. Non me lo aspetto. Poi è la mia considerazione. Vogliamo fargli l'azione, poi torna Agnelli. Nemmeno, perché non so nemmeno se sarà un ritorno successivo a Ferrero, se ci sarà qualcosa d'altro in mezzo, ma secondo me tra Agnelli e la Juventus non è finita. Non è finita. C'è una battaglia da concludere lato sportivo per la Juventus, c'è una battaglia da concludere lato penale per Agnelli. Secondo me non è finita qui. Poi magari sbaglio e mi sono fatto un viaggio io in mente, però tutte queste cose messe insieme danno quella sensazione di per il momento era meglio così. Poi vediamo. Io credo che abbiano veramente l'ossessione legata al vincere il trofeo più grosso, che non dico Champions League, proprio perché lo stesso Agnelli dalla Champions sarebbe voluto uscire per creare la Superlega o comunque giocare anche la Champions, ma anche la Superlega. Quindi in Agnelli è rimasta con l'ossessione dell'ultimo gradino che non è riuscito a compiere con la Juve, fermandosi per due volte quasi all'arrivo e con Allegri, che in questo momento ha pieni poteri a livello sportivo. Ed è qui che entra in gioco il nome di Isco. Isco, classe 1992, mio coetaneo, che si era svincolato dal Real Madrid, era andato a giocare a Sevilla, dopo sei mesi la sua esperienza a Sevilla si è conclusa, ha rescisso in maniera bilaterale il contratto con il suo precedente club ed ora è un fee transfert, un parametro zero. Può firmare con chi gli pare. E si dice, fonte Sport Mediaset, quindi prendiamola anche magari un attimino con le pinze, perché da anni credo che non ci sia un'esclusiva lato Juve sul mercato da parte Sport Mediaset, ma vediamo, io ve la riporto qua per fare due chiacchiere, si dice che Allegri sia stato stregato da Isco negli anni in cui ce la siamo giocata con Real senza mai vincerla e anzi che sia stato veramente impressionato dalle giocate di Isco e che possa essere un nome sulla lista dei giocatori di Allegri proprio per gennaio, dato che comunque è una situazione anche abbastanza delicata lato Juve per quanto riguarda il mercato e quindi la finanza, un parametro zero, sicuramente non andrebbe a spostare di tanto. Ma la domanda che vi faccio è davvero Isco può essere un nome logico per la Juve di oggi? Perché ricordiamoci che siamo passati a un 3-5-2. Quindi o lo metti nei tre di centrocampo o addirittura lo metti dietro una punta quindi togliendo una punta ma davanti hai Milik, Vlaovic, Ken, Chiesa, Di Maria ce l'ha giocato Miretti dietro la punta insomma inizia a averne tanti lo stesso Sule che magari andrà in prestito non lo sappiamo però per due posti tanti giocatori a meno che l'idea non sia quella di passare a un 3-4-2-1 però in questo caso poi perdi un giocatore a centrocampo e anche lì a centrocampo comunque ne abbiamo c'è il punto interrogativo Pogba è vero c'è il punto interrogativo Rabiot attenzione c'è il punto interrogativo Rabiot perché io non sono certo che Rabiot concluderà la stagione con la Juventus essendo un giocatore che va in scadenza essendo un giocatore che ha fatto un gran mondiale essendo un giocatore che si può ancora monetizzare per una decina di milioni di euro probabilmente è logico che viene a dire può firmare con chi gli pare basta aspettare sei mesi ma lo stesso Zaccaria l'anno scorso viene alla Juve proprio perché noi andiamo a pagare al suo precedente club un pochino e mi ha dato 5-6 milioni di euro per averlo subito quindi attenzione che io Rabiot metto un punto interrogativo cioè il punto interrogativo anche secondo me è legato a McKennie perché dovesse arrivare un'offerta per McKennie per me la prenderebbero in considerazione sono abbastanza sincero anche perché Rabiot fino adesso probabilmente è stato il miglior centrocampista della Juve se è sul mercato lui a cascata credo che se arrivano offerta si valuta per tutti bene o male quasi per tutti perché non credo che ad oggi fagioli e miretti possano essere considerati cedibili dalla Juventus è ovvio che se arrivano offerta da 60 milioni di euro ci pensano ma credo che non sia questo il caso e credo che siano i due giocatori dal quale io dovrà cercare di ripartire quella nuova linea verde che stiamo cercando di seguire piuttosto che la linea degli Isco che dopo sei mesi a Siviglia rescindono il contratto alla ricerca di un'altra avventura di un ultimo contratto dell'ultima occasione della carriera ma Isco piace è sempre piaciuto storicamente credo che sia un giocatore importante credo anche che possa essere quel giocatore in grado di dare quella qualità che è mancata dall'addio di Dybala in poi perché Di Maria credo che in questo momento non abbia ancora aggiunto tutto il suo bagaglio all'interno della Juve e anche qui io il punto interrogativo di Di Maria mi sento di lasciarlo ovviamente c'è anche Paredes che secondo me non è un punto interrogativo ma è un punto esclamativo perché non credo che verrà riscattato legato al centrocamp però se l'idea è esce Di Maria e entra Isco ma a me siano sempre lì che rigiriamo intorno a quei due o tre nomi credo che Di Maria sia decisamente più forte di Isco anche più anziano certo questo è vero ma siccome è anche più impattante rispetto a Isco quindi delle due mi faccio gli ultimi sei mesi con Di Maria lascio Isco ad altre squadre e poi inizio a ragionare su quello che potrà essere il mercato della Juventus in estate e vedremo con chi seduto in panchina e con chi a capo della parte sportiva e con chi in presidenza perché in questo momento il più grande punto interrogativo non è sulla squadra non è sul campo non è sulla rosa non è sul mercato è sulla Juventus non perché sono qui a dirvi oh secondo me andiamo in serie B in serie C in serie D ci radiano no perché bisognerà capire chi sarà la Juventus quali saranno i nomi che formeranno la Juventus questa è è un po' la priorità secondo me giunti a questo punto quindi faccio un po' fatica a credere il numero di Isco che considero anche abbastanza illogico poi fatemi sapere un po' la vostra posizione qui sotto nei commenti fatemi sapere se anche secondo voi le parole di Agnelli sono un po' particolari e fatemi sapere se vi manca la Juve perché ormai ci siamo grazie a tutti